L'incedere lento lungo il percorso cittadino che tocca le quattro parrocchie, la benedizione del legno santo ad ogni sosta davanti alle chiese, il pellegrinaggio dei fedeli per baciare la deliquia al termine della processione. A Trinitapoli i riti del venerdì santo culminano nella processione del legno santo organizzata dalla confraternita di Sant'Anna. Dalla chiesa della Santissima Trinità e Sant'Anna si muove la processione con il frammento della croce di Cristo incastonato in un croce reliquiario d'argento conservata in un'urna dorata. E attraversando le vie cittadine tra due ali di folla di fedeli la processione raggiunge le quattro parrocchie di Trinitapoli dove si ripete la cerimonia di benedizione del legno santo. Appuntamento che si rinnova da più di mezzo secolo a Trinitapoli anche se la storia della chiesa della Santissima Trinità e Sant'Anna affonda le sue radici nei primi anni del 1100. Così come tradizionale è l'asta che si svolge tra chi intende portare in processione il legno santo e la sacra immagine della pietà che si rifà all'opera di Michelangelo. La processione si conclude nella chiesa della Santa Trinità e Sant'Anna accolta dal canto del Cristus mentre i fedeli in fila attendono il loro momento per baciare il legno santo.